Buonasera a tutti, Luca Salvucci, responsabile della pratica agricoltura e medica di AlmaViva. Oggi ho partecipato all'Innovation Agritour proprio per raccontare come le soluzioni tecnologiche riescono a portare valore alle aziende agricole. Come AlmaViva crediamo molto in questo concetto e con questa vision siamo dei soci fondatori della Fondazione Ricca Gioia che ha proprio come obiettivo quello di accorciare le distanze con il territorio per portare i benefici che effettivamente le tecnologie possono portare nei processi produttivi. Oggi è importante e fondamentale un percorso formativo che possa effettivamente far toccare con mano agli agricoltori questi benefici che ancora oggi rischiano di essere un valore ancora non sperimentato appieno nei processi produttivi.